Si torna in campo. È ricominciata l'avventura delle piccole calciatrici della Fortitudo Nocerina, un gruppo ormai consolidato nel panorama giovanile locale, più che triplicato nel numero, che quest'anno parteciperà a due distinti campionati Libertas. Scendono in campo per l'Under 2012 con le nate nel 2011 e 2012. Ottima la prestazione nella prima di campionato contro Sant'Egidio Spirito. La gara è terminata 2 a 3, un buon match nonostante la sconfitta, con assenze e circostanze sfavorevoli. Si guarda avanti e si proverà a fare sempre meglio raccogliendo risultati come lo scorso anno, con la grinta che contraddistingue un gruppo societario tutto affemminile presieduto da Anna Rosa Citarella. A ricoprire il ruolo di vice è Antonia Pannullo, pedagogista giuridica specialista in minoranze sensoriali. In società inoltre figurano la dottoressa Virginia Fasolino, annunziata psicoterapeuta, la dottoressa Mariangela Citarella, sociologa e ricercatrice, la dottoressa Carmen Costa, che ha anche lavorato per la tutela dei Mironi presso l'Unicef, Laura Bersellini, mental coach e coaching alchemico. Confermato il tecnico Antonio Ferrentino, visto i buoni risultati dello scorso anno. Scelto come responsabile del settore tecnico Ciro Ferrentino, allenatore qualificato UEFA e sociologo.